Istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'Innovazione Tecnologica, ieri l'Italia ha celebrato la Giornata Nazionale dello Spazio. Iniziative si sono svolte anche a Napoli, in particolare a Città della Scienza, dove si è svolto un evento organizzato dal DAC, il distretto aerospaziale della Campania. Siamo figli delle stelle, il titolo della giornata che ha visto l'organizzazione di spettacoli e dibattiti con esponenti del settore. Informare su come i vantaggi delle tecnologie, delle applicazioni spaziali e il loro sostegno alla società siano diventati sempre più importanti nell'agenda globale dello sviluppo sostenibile e come anche in chiave economica il settore sia diventato sempre più un asset strategico. L'argomento è stato affrontato durante un dibattito in presenza in streaming, moderato dalla giornalista Maria Cava, a cui ha preso parte il Presidente del DAC, Luigi Carrino. Oggi è importante che noi ricordiamo il ruolo che l'Italia ha da sempre avuto nella ricerca e nelle tecnologie spaziali. L'Italia è stato il primo paese europeo, il terzo al mondo a lanciare un satellite nello spazio, il San Marco 1, che è stato lanciato proprio in questa giornata nel 1964. Da allora abbiamo sempre occupato un ruolo importante e ancor più lo dobbiamo occupare nel futuro. Dallo spazio arrivano molte soluzioni tecnologiche, ma anche molte soluzioni per rendere migliore la vita dell'uomo sulla Terra. Noi dobbiamo avere un ruolo importante in questa battaglia.